Cosa sta succedendo tra Edoardo Tavassi, Mercedes Schengere e Stefania Bernal dopo L'Isola dei Famosi? Di seguito tutti i dettagli. Edoardo Tavassi ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul suo percorso all'Isola dei Famosi e in particola sul suo rapporto con Mercedes Schengere e Stefania Bernal, scopriamo cosa ha rivelato. Leggi anche, Battiti Live 2022, quando va in onda su Italia 1? Date, puntate, dove vederlo in tv, cantanti, orari Edoardo Tavassi contro Mercedes Schengere intervistato da The People Edoardo Tavassi ha fatto delle rivelazioni inaspettate su Mercedes Schengere. Mentre molti fan si aspettavano la nascita di una nuova coppia, il fratello di Gwendalina Tavassi ha spento immediatamente gli entusiami, Edoardo Tavassi e Stefania Bernal stanno insieme? Le dichiarazioni di Edoardo Tavassi, però, non riguardano soltanto il passato flirt con Mercedes. L'ex naufrago, infatti, ha mostrato un certo interesse per l'ex compagna di spiaggia e Stefania, durante una diretta, però, Edoardo ha tenuto a precisare quali sono gli attuali rapporti con l'ex naufraga e Stefania e il motivo della sua preferenza, mentre su Mercedes ha precisato, E voi cosa ne pensate? C'è ancora qualche speranza che nasca un amore? Cosa succederà adesso che tutti sono lontani dalle telecamere del reality? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito al dopo Isola e a questo insospettabile, triangolo, formato da Edoardo Tavassi, Mercedes Schengere e Stefania.